Parte 14 La vecchia Hudson, sovraccarica, scricchiolava e grugniva sulla polverosa strada di campagna di renta all'arteria 66. Quando finalmente vi confluì, Hall accelerò l'andatura, perché sull'asfalto le molle non correvano più pericolo. Intendeva fare una media di 60. Chino sul volante, il viso serio animato da un fermo proposito, tutto il corpo teso nello sforzo della vigilanza. Ogni nervo allerta in cerca di debolezze, del minimo indizio sospetto, gli occhi unicamente intenti alla strada e al quadro degli strumenti. Hall era diventato parte integrante della macchina, era anzi propriamente l'anima. Accanto a lui la nonna sonnecchiava. Scomodato da una molla rotta nel sedile, Hall mutò a setto e la posizione delle mani sul volante. E disse, l'abbiamo pagata salata, ma va, resta a vedere cosa farà in salita, carica com'è. Mamma, saranno molte le salite serie di qui in California? La mamma avvoltò lentamente la testa e i suoi occhi tornarono in vita. Ho paura di sì, disse. Non sono sicura, ma mi hanno detto che ce n'è, perfino montagne alte. La nonna diede un gemito nel sonno. Hall disse, scalderà come un inferno se la salita è dura. Savrà da scaricare parte della roba. Vedrai che prima della fine ci sarà utile, profetizzò la mamma. Riferendosi al predicatore, e riprese a guardare innanzi a sé sulla strada assolata. Hall guidò con una mano sola per posare l'altra sulla leva del cambio che vibrava. Mamma, non hai dei brutti presentimenti? Non ti fa paura andare in un posto che non conosci? Gli occhi della mamma si fecero pensosi, ma dolci. Paura? Beh, un poco. Non voglio pensare, però, preferisco aspettare. Quel che ci sarà da fare lo farò. Ma come credi che sarà la vita laggiù? Non credi che potrebbe anche essere meno bella di quel che ci aspettiamo? No, rispose la donna prontamente. Non credo, ma non bisogna pensarci. Vedremo quando saremo là. La nonna sbadigliò rumorosamente, e aprì gli occhi, e si guardò attorno inquieta. Dio mio, ho bisogno di scendere, disse. Al primo boschetto, disse Hall, ce n'è uno là a pochi passi. Boschetto, no, non posso aspettare. E prese a gemere. Ho bisogno di scendere. Hall accelerò, e raggiunto il boschetto, fermò la macchina. La mamma aprì la portiera, scese, con mosse e bruschette, aiutò la vecchia a disincagliarsi, e la accompagnò nei cespugli. Dovette reggerla per un braccio, perché non cadesse quando si accovacciò. Nell'autocarro, il resto della tribù cominciò a dare segni di vita. Tom, Casey, Noè e zio John furono i primi a scendere per sgranchirsi. Ruth e Winfield scavalcarono le sponde, si lasciarono cadere a terra, e partirono di corsa per esplorare i cespugli. Tom chiamò, Vuoi scendere, nonno? Il vecchio gli scoccò un'occhiata distratta e fece segno di no. Poi i suoi occhi mandarono un lampo di ferocia. Non parto, vi dico, io resto come il mio lei. Ma riperdette subito interesse in quel che diceva. La mamma tornava, aiutando la vecchia a scalare l'argine della strada. Disse a Tom, Tira fuori la padella col resto delle costolette, è ora di mangiare qualcosa. Tom ubbidì e porse la padella in giro e ognuno si prese un osso da rosicchiare. Durante i 40 chilometri da Castle a Padden il sole toccò lo zenith e cominciò la discesa, e il tappo del radiatore si mise a ballare sputando vapori. A poca distanza da Padden trovarono una baracca con due pompe di benzina e una pompa d'acqua munita del suo lungo tubo di gomma. Al accostò, fermando il naso della Hudson presso la pompa dell'acqua. L'esercente, grande e grosso, rosso in faccia, stava seduto dietro alle pompe di benzina. Si alzò e venne incontro ai clienti. Portava calzonacci di fustagno con le bretelle e un farsetto col bavero e le maniche corte. Viede un'occhiata all'Hudson con aria tracotante e chiese con tono brusco «Fate acquisti? Benzina o altro?» Al era già sceso e stava svitando il tappo del radiatore, pronto a ritirare la mano al primo spruzzo per non scottarsi. «Benzina, sì!» rispose. «Soldi ne avete?» «Certo, per chi ci avete preso, per accattoni!» Ogni tracotanza sparì dalla faccia dell'esercente. «Fate, fate, servitevi pure da voi, dell'acqua!» E si affrettò a spiegare. «Tanta gente in questi giorni vengono, prendono l'acqua, mi sporcano la latrina, comprano niente, per Dio rubano, se non li tengo d'occhio. Senza un soldo in tasca, si aspettano che gli dia la benzina per carità.» Tom gli si avvicinò con aria minacciosa. «Noi si paga, non si vuole niente gratis.» «Certo, certo, ho capito subito!» Si affrettò a ribattere l'esercente. «Servitevi d'acqua, usate pure la latrina.» Winfield si era impadronito del tubo, aveva aperto la chiavetta del beccuccio, si era errorato la faccia e la testa, e ora sgocciolava tutto contento. «Niente fredda!» diceva. L'esercente diede un tono confidenziale alla sua conversazione. «56 macchine ho contato ieri, 50, 60 al giorno. Di questo passo dove si va? Tutti profughi. E dove vanno poi? Cosa vanno a fare?» «Quel che facciamo noi, pronto lo Tom. Si cerca un posto dove vivere, si tenta, si fa quel che si può. «Ma di questo passo dove si va?» domando io. «Dove si va? Anch'io sono in difficoltà, i ricchi qui non si fermano, non uno. Van tutti a servirsi nei posti eleganti in città.» Hal era finalmente riuscito a svitare il tappo del radiatore, che partì come il sughero di una bottiglia di spumante, e col vapore uscì dal radiatore anche il sordo brontolio dell'acqua bollente. Il predicatore si era bagnata la testa, che sgocciolava ancora, e le gocce gli infradiciavano la camicia. Si avvicinò all'esercente e prese posizione accanto a Tom. Disse, «Mica è colpa degli sfrattati. Vi piacerebbe a voi dover vendere il vostro letto per fare il pieno?» «Lo so, lo so che non è loro la colpa», si affrettò ad ammettere il tono conciliante. «So che hanno tutti le loro buone ragioni di mettersi in viaggio, ma di questo passo dove si va?» «Ve lo chiedo a voi, dove si va a finire?» «Nessuno sa darmi una risposta.» Si tolse l'elmetto di cartone argentato per asciugarsi il sudore dalla fronte, e Tom si tolse il berretto allo stesso scopo. Poi lo tuffò nell'acqua, lo torse ben bene e se lo rimise in testa. La mamma, introducendo una mano tra le tavole delle sponde dell'autocarro, riuscì a trovare una tazza di latta. La riempì d'acqua e la portò al nonno. Che vi inumidì le labbra, poi scosse la testa e rifiutò di bere. Al avviò il motore e fece retrocedere il camion per accostarlo alla pompa della benzina. «Il pieno», disse poi. «Ce ne sta un trenta litri, ma ce ne metto sempre venticinque per non sciuparne una goccia.» Il grassone introdusse il becco del tubo nel bocchettone del serbatoio. «Proprio così non si sa dove va a finire», continuava a brontolare. «Io dico che è il paese che va in rovina, sussidi o no.» Il predicatore disse «Io ho girato molto. Dappertutto è la stessa storia, non si sente altro. Dove si va, dove si va, ma perché voler sapere dove, dico io. L'essenziale è andare. Muoversi.» Il grassone azionava ritmicamente la pompa e l'ago si spostava sul quadrante, registrando l'afflusso. Tom perdette la pazienza all'ennesima domanda da parte dell'esercente. «E questo non lo saprete mai. Il mio amico qui cercava appunto di spiegarvi, e voi continuate a insistere nel vostro ritornello. Li conosco, i tipi come voi. Non fanno che lagnarsi, pianucolare, ma non muoverebbe un dito per studiare un rimedio. La gente crema di fame e nessuno si ribella. Tra poco va in malora anche te, sta tranquillo, col tuo dove si va, dove si va. Tutti una massa di vigliacchi che per calmare la paura canta la stessa nenia per addormentarsi.» Rosatea era rimasta col marito presso la pompa dell'acqua in appartato colloquio. Conny, prima di riempire la tazza di latta, la sciacquava ogni volta ben bene e vi immergeva la punta del dito per sentirne la temperatura. Rosatea seguiva con gli occhi le vetture dei ricchi che saettavano sulla strada. Orgogliosa del suo stato, era incline a lagnarsi delle minime difficoltà. Esigeva da Conny i più futili servizi, e della loro futilità erano entrambi consapevoli. Orgoglioso anche lui dello stato di sua moglie, si sentiva losingato dalla confidenza con cui ella lo metteva a parte dei suoi piccoli segreti. Quando Rosatea gli sorrideva timidamente con aria maliziosa, egli le restituiva un sorriso furbesco, ed entrambi si scambiavano sommessamente le loro confidenze. Il mondo si era ristretto attorno a loro due, ed essi ne erano il centro, o piuttosto Rosatea ne era il centro, con Conny che da buon satellite disegnava la sua orbita attorno a lei. Tutto quello che si dicevano racchiudeva un significato misterioso, noto solo a loro due. Ora, ella distolse gli occhi dalla strada e replicò le ziosetta, «Non ho molta sete, ma forse dovrei bere lo stesso». E Conny annui cordialmente, perché aveva capito a volo. Rosatea accettò la tazza, vi si sciacquò la bocca, sputò e beve fino all'ultima goccia l'acqua tiepida. «Ancora un poco?» domandò Conny premuroso. «Solo metà». E Conny la riempì solo a metà e gliela porse di nuovo. Passò come un fulmine una Lincoln Zephyr. «Bassa, argentea!» Rosatea si assicurò che gli altri non fossero a portata di voce, con un cenno del capo alla Lincoln domandò «Ti piacerebbe una così?» Conny sospirò. «Più tardi, chissà». Rosatea capì a volo. «Se in California abbiamo fortuna, facciamo presto a comprarci la macchina. Ma quelle, accennò con la testa alla Lincoln già scomparsa, costano più di una casa. Prima la casa». «Sì, ammiserosa Atea, ma mi piacerebbe anche una di quelle. Ma hai ragione te, prima la casa, perché...» Ed entrambi sapevano quel che lei voleva significare. Entrambi si sentivano terribilmente eccitati all'idea della gravidanza. «Come ti senti?» le domandò Conny. «Stanca, viaggiare così al sole?» «Ma dovevamo farlo, altrimenti non si sarebbe mai partiti». «Lo so», convenne lei. Il cane errava nusando attorno e tornava ripetutamente a dissetarsi nella pozzetta di fango. Dopo un po', si decise a riprendere posto sull'autocarro. Scalò l'arginello della strada, si fermò sul ciglio guardando a destra e a sinistra e non vedendo pericoli avanzò. Un bolide sopraggiunse in quel momento. Rosatea lasciò sfuggire uno strillo. Il cane tentò di salvarsi, ma in vano. Il bolide rallentò un momento e i suoi occupanti voltarono indietro le teste, ma gli acquistò subito velocità e scomparve. Rosatea aveva gli occhi spalancati. «Gli farà male, credi?» «Gli farà male?» Gemette. Conny le posò un braccio attorno alle spalle. «Ma non è niente, vieni, sediti». Eppure l'ho sentito muoversi quando ho gridato. «Non è niente, niente, vieni a sederti. La condusse dietro all'autocarro fuori dalla vista del cane macellato e la fece sedere sul predellino. Tom e zio John si avvicinarono ai resti del cane, ridotto ormai a una sanguinosa poltiglia di intestini che non dava più segni di vita. Tom lo afferrò per le zampe e lo trascinò al margine della strada. Zio John aveva l'aria contrita come se fosse stata colpa sua. «Avrei dovuto legarlo», ripeteva. Il babbo diede solo a un'occhiata il groviglio di intestini, voltò di nuovo la testa per il disgusto e disse «Andiamo via di qui». Meglio così ad ogni modo, era un problema mantenerlo. L'esercente si fece avanti da dietro il camion. «Mi dispiace, ragazzi», disse. «Non fanno vita lunga i cani sulla strada. Me ne sono morti tre in un anno. Non ne tengo più». La mamma avvicinò Rosatea sul predellino e la vida ancora in preda ai brividi. «Come ti senti? Ti ho sentito a gridare. E niente, riallacciati». «Gli avrà fatto male?» «No, no», dico. «Ridicolo, tante paure. Su, levati, aiutami a mettere la nonna sul sedile». «Dov'è la nonna?» «Non so, era qui, sarà alla latrina». Rosatea si diresse a questa volta e non tardò a ricomparire in compagnia della nonna. «Si era addormentata là dentro», annunciò. «È bello là dentro», grignava la vecchia. «Tiri una corda e vieni giù l'acqua». «Bel posto da dormirci», disse Rosatea aiutandola ad accomodarsi sul sedile. La nonna si accomodò goeata, ripetendo «Proprio bello là dentro, si stava bene». Tom disse «Andiamo, partenza, abbiamo un sacco di chilometri da fare». Il babbo diede un fischio acuto. «Dove si saranno cacciati i bambini?» Ripetè il fischio con l'indice e il pollice in bocca. I bambini sbucarono fuori dal grano turco. Ruth in testa gridava «Ho trovato delle uova!» Arrivò Ansante. «Guarda, mamma!» Le mostrava nella palma una dozzina di ovuletti grigi, di chissà quale rettile oscuro, e mentre li mostrava docchiò il cane maciullato sul margine della strada. «Oh!» disse. E insieme a Winfield si avvicinò. Adagio per ispezionare i resti. Il babbo li richiamò energicamente. «Su, bambini, venite via o vi lasciamo qua!» Ubbidirono, ma vennero al passo, e camminando con una certa solennità, Ruth contemplò ancora una volta le sue uova. Poi le buttò via. «Arrampicandosi su per i fianchi dell'autocarro», disse Winfield. «Aveva ancora gli occhi aperti, hai visto?» Winfield sapeva di aver visto una cosa grandiosa. Illustrò la scena con abbondanza di gesti. «Visto gli intestini?» «Schi... schizzati dappertutto!» «Schi...» Non poteva finire. Fece appena in tempo a sporgersi all'infuori e vomitò. Ma si ricompose subito. Al misurò il livello dell'olio, ne aggiunse un poco e misurò di nuovo. Tom lo accostò. «Guido io per un po'?» «Non sono stanco», disse Al. «Non hai dormito stanotte? Io ho sonnecchiato un poco stamattina. Monta dietro. Guido io per un po'. «Va bene», disse Al con riluttanza. «Ma tieni d'occhio l'olio e non sforzarla». Tom rise. «Non aver paura, vado io, sta tranquillo». La tribù si riaccatastò sul retro del camion. La mamma si accomodò di nuovo vicino alla nonna, sul sedile. Tom prese posto al volante e avviò il motore. «Diavolo, è proprio un catorcio», disse. Mollò la frizione e l'autocarro si avviò. Il motore ronzava uniformemente, il sole volgeva al tramonto. La nonna dormiva profondamente, la mamma sonnecchiava, rialzando la testa ogni volta che il mento veniva a appoggiarle sul petto. Tom, abbagliato dal sole, si calcò sugli occhi la visiera del berretto. Da Padden a Micker 21 km, da Micker ad Arra 23, poi Oklahoma City, l'enorme città, che Tom attraversò senza fermarsi. La mamma destatasi osservò con interesse il movimento nelle vie e nell'interno del carro. Tutta la tribù guardava con meraviglia al di sopra dei fianchi, i negozi, le case monumentali. Ruth e Winfield osservavano tutto, imbarazzati dalla grandiosità e dalla stranezza delle cose che vedevano, sconcertati dall'eleganza degli abiti dei cittadini. Non si scambiavano impressioni, era troppo presto, più tardi forse, ma adesso erano ammutoliti. Videro i pozzi di petrolio, tutti neri, sentirono nell'aria il puzzo di petrolio e di benzina, ma non si lasciarono sfuggire neanche un'esclamazione. La rarità e l'impotenza dello spettacolo li sbalordivano. La zona suburbana sembrava estendersi all'infinito. Tom nel traffico guidava ad agio e con prudenza. Finalmente si ritrovò sull'arteria 66, che correva dritta a Ponente. La nonna continuava a dormire e il sole dava risalto alle vanette azzurre che le istoriavano le palpebre e le tempie. Tom disse, facciamo tutto il viaggio su questa medesima strada. La mamma non aveva ancora aperto bocca da quando avevano lasciato il posto di rifornimento e ora disse, bisognerà cercare un posto per la notte, devo cucinare, ci vorrà del tempo. Tom fu del suo parere, sta sicura che non ti porto di un salto solo fino in California. Da Oklahoma a Bertani 24 chilometri. Tom disse, meglio fermarci prima che il sole tramonti. Al adarizzare gli archi per quel telone, col caldo che c'è si rischia di farli cadere e stecchiti là sopra. Tom disse la mamma, il babbo non mi ha detto di te, di quel che ti può succedere se passi il confine. Tom non replicò subito, rifletteva, poi disse, ebbene cosa ha detto? Sono preoccupata Tom, crederanno che vuoi scappare, possono ripigliarti. Tom si protesse gli occhi con la mano contro il sole. Non aver paura, ci ho pensato, ce n'è un sacco come me, liberi sulla parola, e se la spassano dove vogliono. Ne facessi qualcuna, grossa, allora sì, mi riprendono, hanno le mie impronte digitali laggiù a Washington e mi riprendono certo, ma se non faccio niente di male, cosa vuoi che gliene importi a loro? Ma io sono preoccupata lo stesso. Ti può capitare di far male senza nemmeno saperlo che è male. Questo sarebbe lo stesso anche se non fossi libero sulla parola. No, no, non stare a preoccuparti, abbiamo già tante cose da pensare che non dobbiamo crearci altri fastidi. Non so, ma ho paura che per te solo passare il confine sia già un delitto. Eh, ma come vuoi, dovevo restare a Sallis o a morire di fame? Insistette. Meglio cercare un posto per fermarci. Oltrepassato, Bethany, trovarono una vecchia vettura da turismo firma, fuori strada, davanti a una tenda, dove sporgeva un tubo di stufa che mandava fumo. Tom le indicò. Ecco lì una tenda. Sembra bello per fermarsi, no? Rallentò e fermò l'autocarro all'altezza della vecchia auto. Presso il cofano alzato, un uomo di mezza età ne stava esplorando il motore. Portava un vecchio cappello di paglia sfondato, l'inevitabile camicia di cotonata blu e i pantaloni di grossa tela lucida di unto. Tom si sporse fuori dal finestrino. C'è mica di vieto di accamparsi qui per le notte? L'uomo piantò gli occhi in faccia a Tom. E che ne so, io mi sono fermato perché non potevo più tirare avanti. C'è acqua? L'altro accennò con la mano verso ponente. C'è un posto di rifornimento a mezzo chilometro. Vi lasciano prendere un secchio d'acqua se volete. Tom esitò. Allora è permesso far tappa qui vicino a voi altri? L'altro sembrò sorpreso dalla domanda. Non l'ho mica affittato il posto. Ci siamo fermati perché questa maledetta baracca non vuol saperne di andare avanti. Tom insistò. Comunque siete arrivati prima, avete diritto di dirci se ci volete oppure no. L'appello rivolto al senso dell'ospitalità produsse immediatamente il suo effetto. L'uomo magro sorrise affabilmente. Venite, venite, fortunato di avervi per vicini di casa. E chiamò la moglie. Seri, abbiamo dei coinquilini. Vieni fuori a salutare. Non sta tanto bene. Aggiunse. Il telo d'ingresso della tenda si aprì e comparve una donna macilenta, con un viso che pareva una foglia secca e due occhi febbricitanti che sembravano guardare su dal fondo di un pozzo di orrori. Si vedeva che stentava a reggersi in piedi, aggrappata alla tenda con una mano che pareva quella di uno scheletro. Tom uscì di strada e parcheggiò l'autocarro accanto alla vettura. La tribù si riversò tumultuosa fuori dall'autocarro. La mamma si mise alla svelta in faccende. Ora andate insieme a prendere acqua, là al rifornimento. Chiedete per piacere, dite grazie e aiutatevi a portarla e badate, a non versarne per strada. E se vedete in giro qualche stecco di legno secco, portatene. I bambini afferrarono la secchia e partirono di un passo deciso e dignitoso. Presso la tenda le presentazioni procedevano in un'atmosfera di imbarazzo. Il babbo disse, non siete di queste parti, vero? Mica di Oklahoma, rispose Al, che ispezionando la vettura ne aveva notata la targa. Kansas, disse. L'uomo magro confermò. Di Galena o dintorni? E si presentò. Wilson. Jod, disse a sua volta il babbo. Dei dintorni di Sallisaw. Fortunato di fare la vostra conoscenza. Seiri, ti presento il signor Jod. Avevo capito che non eravate dell'Oklahoma, disse il babbo. Dal parlare. Già, si parla diverso, ammise l'altro. E così dappertutto. Nell'Arkansas si parla a un modo, nell'Oklahoma in un altro. E ho conosciuto una signora del Massachusetts che non si capiva più niente quel che diceva. Noè, zio John e il predicatore cominciarono a scaricare. Aiutarono il nonno a scendere e lo misero a sedere in terra. Il vecchio era totalmente inciocchito, privo di forze, e guardava fisso innanzi a sé, con occhi tetri imbambolati. Non va bene, nonno? Domandò Noè. Vada cani, porca miseria! Ribatte debolmente il vecchio. Vita d'inferno! Seiri Wilson lo avvicinò e lo esaminò con sguardo preoccupato. Non volete entrare nella nostra tenda? Gli domandò. Vi allungate sul materasso e fate un riposino. Il vecchio, attratto dalla dolcezza della voce, alzò gli occhi, e la donna insistè con accento persuasivo. Venite a fare un riposino, vi aiutiamo noi. Improvvisamente, il nonno si mise a piangere, con labbra compresse, col mento che gli tremava, finché scoppiò in arraochi i singhiozzi. La mamma accorse, gli passò le braccia sotto le ascelle, con visibile sforzo lo sollevò in piedri, e sorreggendolo lo condusse nella tenda. Deve essere grave, mormorò zio John. Ha mai fatto così in vita sua? L'ho mai visto piangere? Si arrampicò sull'autocarro e buttò giù un materasso. La mamma, uscendo dalla tenda, andò dal predicatore. «Voi siete pratico coi malati?» gli disse. «Il nonno sta male, dategli un'occhiata, vi prego». Casey aderì con premura all'invito ed entrò sotto la tenda. Il materasso a due piazze posava direttamente sull'erba. Nella piccola stufa di ferro ardeva un tisico fuoco. Tutto il mobilio consisteva in una cassetta di commettibili, una secchia d'acqua e una cassetta vuota che serviva da tavolino. La luce del tramonto penetrava rose attraverso i teli. Siri Wilson era in ginocchio presso il materasso e il nonno giaceva sulla schiena. Gli occhi spalancati, fissi al soffitto, le guance paonazze, il respiro affannoso. Casey gli tastò il polso. «Vi sentite stanco?» Gli occhi imbambolati si diressero nella direzione d'onde veniva la voce, ma non trovarono nessuno. Le labbra cartilaginose formularono parole senza suono. Casey abbandonò il polso e posò la mano sulla fronte del malato. Le estremità del decrepito scheletro accennarono scomposti moti convulsi. Dalle labbra uscì una filastrocca di suoni confusi, che non erano parole. Sotto l'ispida barba bianca il rosso delle guance si faceva sempre più cupo. «Cosa sarà? Avete idea?» domandò Siri Wilson con la sua voce carezzevole. «E voi?» rispose Casey, guardandola negli occhi febbricitanti. «Ho paura di sì. Cos'è secondo voi? Vorrei sbagliarmi, ma...» Casey guardò i lineamenti contorti del viso paonazzo. «Volete dire forse che è un colpo?» «Già!» confermò la donna. «Ne ho visti già tre così». Di fuori giungevano i suoni prodotti dai preparativi dell'accampamento. Spaccare di legna, rumori di pavelle. La mamma si affacciò sulla soglia e disse «La nonna vuole venire, dobbiamo lasciarla entrare?» Casey rispose «Sarà meglio, se no capace che si arrabbia». «Vi pare grave?» chiese ancora la mamma. Il predicatore annuì lentamente. La mamma diede un rapido sguardo al vecchio, volto alterato e soffuso di sangue, e si ritirò. Si udì la sua voce che diceva alla nonna «Sta bene, nonna, sta facendo un riposino». La nonna rispose petulante «Voglio vederlo con i miei occhi, non dice mai la verità quel vecchio impostore». Entrò di volata tra i teli d'ingresso e restò in piedi accanto al giaciglio, guardando in basso. «Beh, che cos'hai?» domandò Burber al marito. E vedendo gli occhi voltarsi nella sua direzione e le labbra muoversi senza parlare, «Fai il muso», disse. «E' fatto così, lo conosco, non voleva partire, l'hanno obbligato e adesso fa il muso». Casey disse con dolcezza «Non è muso, nonna, sta proprio male». «Male?» la vecchia guardò in basso con maggiore attenzione. «Male grave, credete?» «Purtroppo, nonna». Ella rimase sconcertata, ma solo un attimo. Poi ritrovò la sua vivacità e disse «Allora perché non dite le preghiere? Non siete un predicatore?» Le dita dure di Casey agguantarono il polso della nonna. «Vi ho già detto, nonna, che io non faccio più il predicatore». «Dite lo stesso le preghiere», ordinò lei. «È roba che sapete a memoria». «Non posso», mormorò Casey. «Non so chi pregare né per che cosa». Gli occhi della nonna si distolsero da lui e si posarono su seri. «Non sa pregare», borbottò. «Non vi ho mai detto come pregava Ruti quando era piccola?» «Così. Adesso mi metto giù ad urbire. Prego il Signore di conservare l'anima mia. Ambarabacci, ciccocotterci, vette sul comò. Amen!» Proprio così diceva. Il sole proiettò sulla tenda come su uno schermo, l'ombra di qualcuno che passava all'esterno. Il nonno sembrò fare uno sforzo, trasalì e sbarrò gli occhi e spalancò la bocca e fu preso da soffocazione. Seri Wilson toccò Casey sulla spalla, bisbigliando «La lingua, la lingua, la lingua!» Casey annuì, si mise in posizione d'astruire col proprio corpo. La vista alla nonna affondò una mano fino in gola al morente, riuscì ad afferrargli la lingua e la tirò fuori. Con la lingua uscì un rantolo che si ruppe in un singhiozzo. Casey trovò uno stecco di legno con cui tener fuori la lingua, mentre i rantoli continuavano ad alternarsi coi singulti. La nonna saltellava come un pollo spaventato e ripeteva furiosa «Pregate, vi dico, pregate!» Seiri cercava di trattenerla indietro. «Pregate che Dio vi maledica!» Casey le scoccò un'occhiata molto risentita e mentre i rantoli si andavano affiavolendo cominciò «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome! Gloria al Dio della vittoria!» urlò la nonna. «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra!» «Amen! Alleluia!» E il nonno inspirò affannosamente con la bocca spalancata ed esalò di nuovo l'aria con un rantolo. «Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi singhiozzi e rantoli cessati!» Casey guardò il nonno e ne notò lo sguardo velato e penetrante, ma sereno. «Alleluia!» disse ancora la nonna. «Avanti, avanti!» «Amen!» disse Casey. Solo allora la nonna tacque e nello stesso momento cessò come per incanto ogni rumore esterno. Il silenzio fu rotto dal similare di un bolide sulla strada. Casey continuava a restare immobile, in ginocchio. Seiri prese la nonna per un braccio e la condusse fuori. La vecchia si muoveva con dignità, la testa alta per l'onore della tribù. Seiri la condusse presso il materasso che zio John aveva tolto dall'autocarro e ve la fece sedere. E la nonna sedette, ritta e composta, perché adesso era in mostra. Nella tenda tutto era silenzio e finalmente anche Casey uscì fuori. Il babbo lo accostò e domandò sottovoce «Cosa è stato?» Un colpo, un buon colpo spiccio, spregativo. La vita riprese a scorrere di nuovo. Il sole toccò l'orizzonte e vi si appiattò. Sulla strada arrivava in lunga colonna un convoglio di autocarri pesanti. La tribù si raggruppò. Il babbo ora ne era il capo assoluto. Si accoccolò con zio John al suo fianco e la mamma rimase in piedi dietro a lui. Noè, Tom e Dahl si accoccolarono ai lati dei maggiori. Il predicatore si sdraiò a mezzo su un fianco, sostenendosi su un gomito. Connie e Rosatea stavano in piedi, un pochino appartati. Ruth e Winfield stavano venendo con la secchia piena e avvertirono subito il mutamento della situazione. Posarono la secchia a terra e vennero seri e zitti a prender posto vicino alla mamma. Il babbo disse «È stato nella tenda del signor Wilson!» Zio John assentì. «Ha messo la sua tenda a nostra disposizione. Gesto d'amico», riprese il babbo. «Brava gente!» Adocchiò l'uomo all'ampanato che armeggiava attorno alla sua vettura in avaria e lo chiamò «Signor Wilson!» Wilson venne. Si accoccolò accanto al babbo e sua moglie, che era andata a sedersi accanto alla nonna, pur evitando di toccarla, venne a mettersi in piedi dietro a lui. Il babbo disse «Vi siamo molto obbligati!» Wilson rispose «Siamo fortunati di avervi potuto aiutare!» Il babbo ripetè «Vi siamo obbligati!» «Non c'è obbligazione davanti alla morte!» replicò Wilson. «E sua moglie, Ficeco, non c'è obbligazione!» Hull disse «Io vi aggiusto la vettura, mi faccio aiutare da Tom e parvi orgoglioso di sentirsi in grado di disobbligare la tribù». «Accettiamo volentieri l'offerta!» disse Wilson. «Ora abbiamo da discutere sul da farsi!» disse il babbo. «C'è la legge! Bisogna denunciare la morte! E alla denuncia, se non siamo 40 dollari per i funerali, ti prendono per un pezzente!» Zio John intervenne «Mai avuto un pezzente nella nostra famiglia!» Tom disse «Ma prima di noi nessuno è neanche mai stato sfrattato!» Il babbo disse «Ci siamo sempre regolati bene, abbiamo sempre soldato i nostri debiti, non abbiamo mai mendicato favori. Quando a Tommy qui capitò la disgrazia abbiamo potuto tenere alte le teste. Lui ha fatto quel che avrebbe fatto chiunque altro». «Allora cosa si fa?» domandò Zio John. «Se facciamo come vuole la legge vengono a prendere il cadavere. Ci restano solo 150 dollari. Se ce ne prendono 40 per seppellire il nonno non ce la facciamo all'arrivare in California. Altrimenti lo ficcano sottoterra come un pezzente». Gli uomini diedero segni di disagio e piantarono gli occhi in terra tra i ginocchi. Il babbo riprese con dolcezza. «Il nonno seppellì il babbo suo con le proprie mani. Fatto le cose con molta dignità sulla sua terra. A quei tempi si aveva il diritto di seppellire il babbo. Ma adesso la legge è cambiata» disse Zio John. «Alle volte non si può osservare la legge» replicò il babbo. «Molte volte così. Quando Floyd si era dato al brigantaggio la legge ci ordinava di denunciarlo ma nessuno lo ha mai denunciato. C'è qualcuno che ha qualche obiezione da fare?» Il predicatore si sollevò un po' sul gomito. «Le leggi cambiano» disse. «Ma le necessità sono sempre necessità. Voi avete pienamente diritto di fare quello che è necessario». Il babbo si voltò verso il fratello. «Fa sentire la tua opinione. Hai qualcosa in contrario?» «No» disse Zio John. «Ma è come fare le cose di nascosto. Il nonno non sarebbe stato contento». «Non possiamo interpellarlo al riguardo» disse il babbo. «Dobbiamo arrivare in California prima che ci finiscano i soldi». «Tommi interloqui. Pare che il governo si interessa più ai morti che ai vivi. Capace di disotterrare un cadavere se trova una tomba fuori dal cimitero». «Io propongo di lasciare una nota scritta in una bottiglia vicino al nonno che spieghi chi è, com'è morto e perché l'abbiamo sebolto lì». Il babbo fece segno di approvare la proposta. «Buona idea». Scrivila con bella calligrafia. «C'è anche il vantaggio che si sentirà meno solo sapendo che c'è il suo nome lì con lui e non è uno sconosciuto qualsiasi abbandonato sottoterra. C'è nessun altro che ha da dire qualcosa?» Nessuno apri bocca. Il babbo guardò la mamma. «Lo prepari te, il nonno?» «Sì, certo», replicò la mamma. «Ma chi pensa alla cena?» «Penso io», propose Siri Wilson. «Non vi preoccupate, ci penso io con l'aiuto della vostra ragazzona». «Grazie, grazie di cuore», disse la mamma. «Noè, porta i barilotti e tira fuori un po' di carne. Non sarà completamente salata ancora, ma sempre buona da mangiare». «E noi abbiamo ancora un mezzo sacco di patate», disse Siri. La mamma disse al babbo «Tapi due mezzi dollari». Il babbo si frugò in tasca e le diede le due monete d'argento. Ella andò all'autocarro, trovò la bacinella, la riempì d'acqua ed entrò sotto la tenda. Era quasi buio là dentro. Siri la raggiunse, accese una candela, la appiccicò ritta sulla cassetta tavolino e uscì di nuovo. La mamma ristette un momento a guardare il viso del morto. Poi, prese da compassione, lacerò una striscia dall'orlo del suo grembiale e se ne servì per tenere chiusa la mandibola del cadavere. Gli distese le gambe e gli piegò le braccia in croce sul petto, gli chiuse le palpebre e su ciascuna posò una delle monete d'argento. Gli abbottonò la camicia e gli lavò la faccia.